ciao ragazzi ci troviamo a marina degli aregai e ospiti di marine wizard e con noi abbiamo alessandro frate che adesso ci dedichiamo un attimino a lui siamo a bordo dalla retusa explorer siamo pronti per partire da marina degli aregai sino a marina della renella a palermo e a questo punto il primo samurai si deve presentare alessandro parlaci di te eccomi qui sono alessandro frate sono un veterinario e sono qui a soddisfare insomma un mio sogno a realizzare un mio sogno avevo due sogni nel cassetto uno navigare con l'altro andare sulla luna vedremo un po il primo è fatto e ho tanti amici con monauti tutti quanti hanno partecipato al concorso suzuki per navigare con lui e io ce l'ho fatta e loro no eccomi qui anche perché mi hanno augurato tante brutte cose per venire al posto al mio ma niente ho resistito ho resistito insomma voglio dire non so appena ritornerei a bari però ognuno è responsabile delle proprie cose comunque alessandro è con noi salutiamo i tuoi amici ciao sicuramente ci sarà tempo sia per i tuoi amici per navigare speriamo un giorno con me e spero che ci sia anche tempo per andare nella luna quindi inizia a prepararti perché sicuramente prima o poi il biglietto ti tocca grazie suzuki